Non godono di buona salute trasporti in Sardegna, almeno stando alle 400 segnalazioni dei pendolari arrivate sul portale nella seconda parte del 2017 che al primo posto con il 40% delle segnalazioni lamentano i disservizi su orari e percorsi. Seguono le segnalazioni sulle condizioni dei mezzi che occupano il 31% relamentele, quindi problemi di interazione con altri passeggeri al 15%, infine disservizi riguardanti lo stato di fermate, stazioni e infrastrutture con un 8%. Si tratta di dati preziosissimi, commenta l'assessore regionale dei trasporti Carlo Careddu, che consentiranno di migliorare il servizio offerto dalle aziende e di intensificare gli interventi correttivi necessari. La regione, aggiunge all'esponente di giunta, ha proceduto inoltre a combinare sanzioni ai gestori per richiamarli al rispetto del contratto anche in funzione dell'inalzamento degli standard qualitativi e in relazione al rapporto con l'utenza. Agli utenti che, stando alla raccolta dei dati, non tollerano in ritardi le condizioni dei mezzi, l'assessore ricorda anche che per cercare di migliorare il servizio è in campo una massicciazione di svecchiamento del parco rotabile, che prevede la riduzione del 77% dell'età media della flotta sarda, dai 23,5 anni del 2016 ai circa 5 nel 2021. Gli interventi in tal senso prevedono inoltre circa 90 milioni di investimento destinati all'acquisto di 18 nuovi treni diesel, 10 del tipo swing, che saranno consegnati da dicembre 2018 e nel 2019 e 8, che saranno consegnati nel 2020 e nel 2021. A questo si sono aggiunti anche due minuetti Alstom già operativi. Sullo scartamento ridotto invece l'amministrazione ha investito 43 milioni di euro per nove automotrici Stadler operative sulle tratte Macomer Nuoro, Sassi e Alguero, Sassi e Risorso. L'aggiunta ha recentemente definito di aspetti amministrativi per l'acquisto di altri 15 pullman per un totale di 4,5 milioni di euro e sono in consegna 101 nuovi mezzi appartenenti alla più recente classe di emissione di gas di scarico.